Entusiasmante giornata quella trascorsa dal coro polifonico Città di Bagnara in quel di Lancusi, in provincia di Salerno, presso la chiesa di San Martino. Il maestro Loredana Polimeni, con la capacità che la contraddistingue, ha condotto il dodicesimo raduno per cori polifonici Natal Cantando, domenica 18 dicembre, organizzato dall'Associazione Coro Polifonico San Martino di Lancusi, di cui la stessa è il direttore. Il messaggio del Santo Padre, registrato e fatto ascoltare ad un pubblico foltissimo di fedeli presenti in chiesa, ha aperto la rassegna. Nell'ambito della manifestazione, che aveva come slogan «Se vuoi la pace, educa la pace, dando vita al talento che c'è in te», è stato omaggiato il generale Sergio Pascali, comandante dei Carabinieri, per la tutela dell'ambiente, con una targa di riconoscimento per il suo costante impegno volto alla salvaguarda dell'ambiente. Alla rassegna hanno preso parte moltissimi cori delle varie cittadine della Campania, presenti anche la corale polifonica Città di Bagnara, composta da coristi del centro, Porelli e Marinella, diretta dal maestro Loredana Polimeni, e il coro gregoriano Monserrato Vallelonga, diretto dal maestro Don Vincenzo Barbieri. Nel corso della manifestazione c'è stato il gemellaggio tra i cori polifonici Città di Bagnara e Monserrato Vallelonga, con il coro di San Matteo di Salerno e il tutto siglato con scambi di doni e pergamene. I due cori calabresi, guidati da Don Barbieri, domenica mattina hanno inoltre animato la celebrazione liturgica nel santuario della Madonna del Rosario di Pompei, emozionando con i loro canti tutti i fedeli presenti. Le due corali, con gli accompagnatori al seguito, avevano già trascorso la giornata di sabato, visitando il santuario francescano a Cava dei Tirreni e guidati da padre Anacleto Bracco, hanno potuto ammirare il Bota Fumeiro, l'incensiere più grande del mondo, del peso di 80 chili, visitare il presepe monumentale, uno dei più bei presepi italiani, ed il villaggio di Babbo Natale, allestito nel chiostro del convento. Nel pomeriggio Don Michele Pecoraro ha guidato il gruppo nella visita del Duomo di Salerno, di cui da qualche mese il maestro Loredana Polimeni è stato nominato direttore della corale. Ammirando così la bellezza della cripta che custodisce le prezose reliquie di San Matteo. Tutti insieme, poi, ad aspettare l'accensione delle luci d'artista, le famose luminarie che caratterizzano la città campana.